Un buongiorno a tutti, bentornati. Episodio numero 27, questo oggi parliamo delle interfacce, cosa sono le interfacce e qual è la differenza sostanziale tra interfacce e classi astratte. E dopodiché andiamo a vedere un esempio pratico. Credo di essermen uscito con uno degli esempi più stupidi in assoluto per farvelo capire, ma ho cercato di essere veramente basico e veramente stupido per poter arrivare a chiunque e spero che questa spiegazione possa arrivarvi. E magari farvi anche sorridere. Dunque, cosa sono le interfacce? Le interfacce sono letteralmente, non c'è modo, si descrivono come interface, quindi sono delle interfacce, sono simili alle classi astratte, ok? Non so spiegarvelo. Cioè una classe astrata è class, abstract class è una classe astratta, poi c'è un'interfaccia che si scrive interface, ok? Sono appunto delle interfacce che possiamo implementare, ok? Non estendere, possiamo implementare dentro delle classi per ottenere dei metodi, ok? Quindi delle interfacce ci mettono a disposizione dei metodi che noi come classi possiamo implementare. Ora, ma se sono tanto simili alle classi astratte e cambia solamente la keyword davanti, no? Perché di base fanno le stesse cose. Fatemi capire, allora, la classe astrata devo implementare un... Devo per forza fare l'override di un metodo, se ce l'ho. Mentre invece l'interfaccia devo per forza fare l'override di un metodo. Qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che le interfacce non hanno proprietà. Cioè le interfacce, mentre la classe astratta ha delle proprietà, cioè una persona ha un nome e un cognome, un'interfaccia, che adesso andiamo a definire, non ha proprietà, capite? Ok, i metodi delle interfacce poi devono essere tutti pubblici. Mentre invece, se vi ricordate, i metodi delle classi astratte possono essere solo pubblici o protette. Altra cosa, tutti i metodi delle interfacce sono astratti, a differenza di questa che vedete a public, vabbè, questo è il costruttore, però qua abbiamo messo solo un abstract, ok? Mentre invece nelle interfacce sono tutti astratti, di conseguenza non serve la parola abstract, come andremo a vedere. Altra cosa, molto comoda che una classe può estendere solo ed esclusivamente una classe, ma può implementare più interfacce, ok? Esempio al volo che mi viene adesso. Una Ferrari, ok, estende solo la macchina, ok? Non è un'estensione di un computer. Però, come tanti altri oggetti a questo mondo, implementa delle ruote. Anche le biciclette implementano le ruote, anche i tricicli implementano le ruote, anche le carriole implementano le ruote, ma non estendono la classe macchina. Spero di avervi fatto capire il concetto. Quindi, la Ferrari estende macchina, perché è vero, la carriola no, non può farlo, ma entrambi implementano delle ruote, ok? Proseguiamo, andiamo a vedere, prendiamo l'esempio di pena di persona. Abbiamo detto, gli insegnanti estendono persona. Fin qua, nessun problema. Volevo farvi però un esempio di interfaccia trasversale tra più classi che non c'entrano veramente niente. Io ho trovato questa cosa abbastanza simpatica. Ho creato un'interfaccia entità. Questo perché nell'universo siamo tutti entità, ok? Le persone sono entità, le persone insegnanti sono delle entità, un telefono è un'entità, un tavolo è un'entità. Quindi, vedete qua, Public Function cade a terra. Ho letteralmente pensato, che cosa posso fare di talmente generico per farvelo capire? Ho detto, siamo tutti delle entità e siamo tutti soggetti a questo mondo alla forza di gravità. Quando cadiamo, noi che siamo insegnanti, studenti, semplici persone, o cade un oggetto, cade una matita, cade qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, quando cadono a terra fanno un tonfo, giusto? Fanno un rumore. Quindi ho detto, benissimo. Allora, crea un'interfaccia che è talmente generica, ovvero entità, che ha un metodo che tutte le classi che la implementano devono utilizzare, ovvero cadono a terra. Quando un insegnante cade a terra, dobbiamo andare a fare l'override, quindi implement, ne mettiamo entità, ok? Adesso ci dice che dobbiamo implementare cade a terra, è fondamentale, perché noi dobbiamo sapere, essendo implementando insegnante, l'insegnante è una persona, giusto? E fin qua non c'è nessun dubbio, prende nome, cognome, eccetera. Ma come un telefono, se cade a terra deve fare qualcosa. Quindi noi implementiamo entità, perché effettivamente una persona è un'entità per quanto riguarda la legge di gravità, perciò dobbiamo andare a creare questa bellissima funzione. Quindi facciamo public function, ne mettiamo cade a terra, e il tonfo che va a fare, adesso dobbiamo andare di onomatope, io non sono un fenomeno, facciamo echo tonf, ok? Quindi quando una persona cade a terra, fa tonf, capite? Se invece noi andiamo a fare una, potremmo fare una classe astratta, abstract class, telefono, sto facendo, sto scrivendo codice extra solo per far vedere, classe astratta, telefono, ok? Dopodiché abbiamo class, iPhone, che estende, chiaramente, un telefono, sarebbe uno smartphone, quindi potete capire che anche qua abbiamo un'altra classe astrata, che è telefono. Abbiamo un iPhone che estende il telefono, ma anch'esso può implementare l'entità, perché anche un telefono è un'entità. Quindi noi andiamo a prendere public function, e anziché tonf facciamo tack, ok? Perché magari si è craccato il, anzi, facciamo crack, perché si è chiaramente craccato lo schermo, e dobbiamo andare a spendere 100 euro per ripararlo. Come potete vedere, sono due classi totalmente diverse, che possono al contempo estendere altre classi, in realtà potremmo anche non farlo, non è che siamo obbligati a farlo. Ma cos'è successo? Che sono classi totalmente diverse, a livello logico, cioè un insegnante con un telefono hanno poco a che fare, a livello di possibili derivati, cioè di classi che estendono, non hanno niente a che vedere, uno è un telefono e uno è una persona, va bene? Ma cos'è il fatto? Entrambi implementano l'interfaccia entità, perché entrambi, se cadono a terra, devono fare un rumore specifico, e quindi ho avuto la possibilità di farvi vedere come cambia, perché in base al materiale di cui è fatto, fa rumore differente. Spero di avervelo spiegato nel modo più semplice, e anche più comico possibile. Non c'è molto da dire. Quindi questa è un'interfaccia, l'interfaccia può avere più metodi, e noi semplicemente le andiamo a dichiarare, perché vogliamo utilizzare questi metodi a livello trasversale tra più classi. Se queste classi fossero derivate tutte della stessa classe, estendessero la stessa classe, noi non avremmo bisogno di... ci basterebbe fare qua una funzione astratta, ma magari vogliamo utilizzare questa interfaccia tra più classi, e di conseguenza, che non hanno niente a che vedere tra di loro, di conseguenza andiamo a utilizzare un'interfaccia. Dicevo, questo è il modo migliore in cui io ve lo so spiegare. Spero si sia capito, se non si è capito, internet è pieno di persone che sicuramente l'avranno spiegato meglio di me, e pieno di documentazione. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è servito o meno, così almeno so regolarmi se devo migliorare la spiegazione o quant'altro. Invece ragazzo per essere rimasti con me, vi ricordo sotto in descrizione per gli abbonamenti se volete sostenere il canale, oppure c'è il gruppo e il canale di Telegram per essere sempre aggiornati e far parte della community. Altro da dire, il prossimo episodio sarà l'ultimo episodio di questo corso di PHP, abbiamo visto tutto, qualcuno potrebbe dire sì ma MySQL, non preoccupatevi, il corso MySQL è a parte, quindi arriverà dopo, non so se arriverà subito dopo questo o prima farò SQL, perché MySQL si basa su SQL. Adesso vedo come strutturarlo, comunque sappiate che dopo PHP c'è SQL e MySQL, nell'ordine non lo so ancora. Io vi ringrazio, ci vediamo per l'ultimo episodio, dove parleremo dei metodi e delle proprietà statiche. Io vi ringrazio ancora alla prossima, ciao ciao! Ciao!